1 Nefi 16 Ed ora, fratelli miei, se voi foste giusti e foste disposti a dare ascolto la verità e a prestarvi attenzione per poter camminare rettamente dinanzi a Dio, allora non morereste a causa della verità e non direste, tu dici, delle cose dure contro di noi. E avvenne che io, Nefi, esoltanti in tutta dirigenza i miei fratelli a obbedire ai miei comandamenti del Signore, ed è ben che essi si umiliarono dinanzi al Signore, al punto che provai gioia e grandi speranze per loro, che avrebbero camminato sui sentieri della rettitudine. Ora, tutte queste cose furono dette e fatte mentre mio padre dimorava in una tenda nella valle che gli chiamò Lemuele. E avvenne che io, Nefi, presi in moglie una delle figlie di Ismaele e anche i miei fratelli presero moglie fra le figlie di Ismaele e anche Zoram prese in moglie la figlia maggiore di Ismaele. E così mio padre aveva adempiuto tutti i comandamenti del Signore che gli erano stati dati e io pure, Nefi, ero stato grandemente benedetto dal Signore. E avvenne che la voce del Signore parlò di notte a mio padre e gli comandò che all'inizio si mettesse un viaggio nell'eserto. E avvenne che quando mio padre si alzò al mattino e si avvicinò alla porta della tenda, con sua grande sorpresa vide a terra una sfera rotonda di accurata fattura ed era di un bronzo fine. E all'interno della sfera c'erano due lancette e una indicava la direzione verso cui dovevamo andare nel deserto. E avvenne che radunammo tutte le cose che dovevamo portare nell'eserto e tutto il resto delle provviste che il Signore ci aveva dato e prendemmo sementi di ogni specie che potessimo portare nel deserto. E avvenne che prendemmo le nostre tende e partimmo inoltrandoci nel deserto attraversando il fiume Laman. E avvenne che viaggiammo per lo spazio di quattro giorni all'incirca in direzione sud-sud-ovest e piantammo di nuovo le tende e demmo nome a questa località Shazer. E avvenne che prendemmo i nostri acchi e le nostre frecce e ci inoltrammo nell'eserto per cacciare per le nostre famiglie. E dopo aver cacciato per le nostre famiglie, tornammo di nuovo dalle nostre famiglie del deserto alla località di Shazer. E ci inoltrammo di nuovo nel deserto seguendo la stessa direzione, mantenendoci nelle parti più fertili del deserto che erano sui confini presso il Mar Rosso. E avvenne che viaggiamo per lo spazio di molti giorni cacciando lungo il cammino con i nostri archi, le nostre frecce, le nostre pietre e le nostre fionde e seguivamo le indicazioni della spera che ci condiceva nelle parti più fertili del deserto. E dopo aver viaggiato per lo spazio di molti giorni, piantammo le tende per un certo spazio di tempo per poterci di nuovo riposare e procurare cibo per le nostre famiglie. E avvenne che mentre io, Neti, ero uscito a caccia, ecco, ruppi il mio arco, che era fatto di un bel acciaio, e dopo che ebbi rotto l'arco, ecco, i miei fratelli si adirarono contro di me a causa della perdita del mio arco, poiché non procurammo alcun cibo. E avvenne che tornammo senza cibo alle nostre famiglie e queste, essendo molto affaticate a causa del loro viaggiare, soffrirono molto per la mancanza di cibo. E avvenne che Laman e Lamuele e i figli Smele cominciarono a mormonare grandemente a causa delle loro sofferenze e delle loro afflizioni nel deserto e anche mio padre cominciò a mormonare contro il Signore su Dio. Sì, erano tutti grandemente addolorati al punto di mormonare contro il Signore. E ora avvenne che io, Nefi, essendo afflitto assieme ai miei fratelli a causa della perdita del mio arco e avendo i loro archi perso la loro elasticità, le cose cominciarono a farsi molto difficili. Sì, tanto che non potevamo procurare alcun cibo. E avvenne che io, Nefi, parlai molto ai miei fratelli perché avevano di nuovo indurito il loro cuore fino a lamentarsi contro il Signore loro Dio. E avvenne che io, Nefi, abbrecai un arco con del legno e con una bacchetta dritta una freccia mi armai pertanto con un arco e una freccia con una fionda e delle pietre e dissi a mio padre dove andrò per procurare del cibo. E avvenne che interrogo il Signore poiché si erano umiliati a causa delle mie parole poiché avevo detto loro molte cose con l'energia della mia anima. E avvenne che la voce del Signore pervenne a mio padre ed egli fu veramente castigato per aver mormorato contro il Signore tanto da essere gettato nella profondità del dolore. E avvenne che la voce del Signore gli disse guarda la spera e vedi le cose che vi sono scritte. E avvenne che quando mio padre vide le cose che erano scritte sulla spera temette e tremorrendemente anche i miei fratelli i figli Ismaele e le nostre mogli. E avvenne che io Nefi vidi che le lancette che erano nella spera operavano secondo la fede la diligenza e l'attenzione che noi prestavamo loro. E su di esse c'era anche scritta una nuova iscrizione che era chiara da leggere che ci fece comprendere le vie del Signore ed era scritta e cambiava di tanto in tanto secondo la fede e la diligenza che prestavamo loro. E così vediamo che con piccoli mezzi il Signore può realizzare grandi cose. E avvenne che io Nefi secondo le indicazioni che erano date sulla spera salì sulla cima della montagna e avvenne che uccisi delle bestie serbatiche tanto che procurai del cibo per le nostre famiglie. E avvenne che tornai alle nostre tende portando le bestie che avevo ucciso ed ora quando videro che avevo procurato del cibo quanto fu grande la loro gioia e avvenne che essi si umiliarono ad innalzare il Signore e gli resero grazie. E avvenne che riprendemmo il nostro viaggio muovendoci all'incirca nella stessa direzione che all'inizio e dopo aver viaggiato per lo spazio di molti giorni piantammo di nuovo le tende per poterci soffermare per un certo spazio di tempo. E avvenne che Ismaele morì e fu sepolto nel luogo che era chiamato Nahum e avvenne che le figlie di Ismaele fecero grande cordoglio a causa della perdita del loro padre e a causa delle loro afflizioni nell'eserto e morborarono contro mio padre perché le aveva portate fuori dalla terra di Gerusalemme dicendo nostro padre è morto e noi abbiamo vagato molto nell'eserto e abbiamo sofferto molta afflizione fame, sete e fatica e dopo tutte queste sofferenze dobbiamo perire di fame nel deserto e così mormoravano contro mio padre e anche contro di me e disegravano tornare di nuovo a Gerusalemme e l'Aman disse alla Muele e anche i figli di Ismaele ecco uccidiamo nostro padre e anche nostro fratello Nefi che ha pretesso di essere nostro governatore e nostro insegnante noi che siamo i suoi fratelli maggiori ora Egli dice che il Signore gli ha parlato e anche che degli angeli lo hanno servito ma ecco noi sappiamo che Egli ci mente ed Egli ci dice queste cose e opera molte cose con le sue atti astute per poter ingannare i nostri occhi credendo forse di poterci condurre lontano in qualche deserto straniero e dopo che ci avrà condotto lontano Egli ha pensato di farsi re e governatore sopra di noi per poter fare di noi secondo il suo volere il suo piacere e in questo modo mio fratello Lamone aizzava il cuore alla collera e avvenne che il Signore fu con noi si venne proprio la voce del Signore e disse loro molte parole e li castigò grandemente e dopo essere stati castigati dalla voce del Signore essi abbandonarono la loro ira e si pentirono dei loro peccati al punto che il Signore ci benedisse di nuovo con del cibo che non avessimo a perire capitolo 17 e avvenne che riprendemmo il nostro viaggio nell'eserto e da allora in poi ci muovemmo all'incirca verso oriente e viaggiamo nel deserto e attraverso molte affrizioni e le nostre donne partorirono dei figli nel deserto e si grandi furono le benedizioni del Signore su di noi che sarebbe che sebbene vivessimo di carne cruda nel deserto le nostre donne avevano latte in abbondanza per i loro figli ed erano forti si proprio come gli uomini e cominciarono a sopportare il loro viaggio senza borbolare e così vediamo che i comandamenti di Dio devono essere adempiuti e si accadde che i figli uomini obbediscono ai comandamenti di Dio e gli li nutre e li fortifica e provvede i mezzi tramite i quali possono compiere ciò che egli ha loro comandato pertanto egli ci procurò i mezzi mentre dimoravamo nel deserto e soggiornammo per lo spazio di molti anni sì ben otto anni nel deserto e giungemmo la terra che chiamammo abbondanza a causa della sua molta frutta e anche del miele selvatico e tutte queste cose furono preparate dal Signore affinché non perissimo e vedemmo il mare che chiamammo il reantum che interpretato significa molte acque e avvenne che piantammo le tende verso la spiaggia e nonostante avessimo sofferto molte afflizioni e molte difficoltà sì talmente tante che non possiamo scriverle tutte fummo pieni di gioia quando arrivammo alla spiaggia e chiamammo la località abbondanza a causa della sua molta frutta e avvenne che dopo che io Nefi fui stato nella terra di abbondanza per lo spazio di molti giorni la voce del Signore mi pervenne dicendo alzati e recati sulla montagna e avvenne che mi alzai e salì sulla montagna e gridai il Signore e avvenne che il Signore mi parlò dicendo costruirai una nave secondo il modello che ti mostrerò affinché io possa trasportare il tuo popolo al di là di queste acque e io dissi Signore dove andrò per poter trovare del minerale da fondere per poter fabbricare degli attrezzi per costruire la nave secondo il modello che mi hai mostrato e avvenne che il Signore mi disse dove sarei dovuto andare per trovare del minerale per poter fabbricare degli attrezzi e avvenne che io Nefi feci un mantice di pelle di animali con cui ravvivare il fuoco e dopo che ebbi fatto il mantice per poter avere di che ravvivare il fuoco battei insieme due pietre per poter fare il fuoco e poiché il Signore fino allora non aveva permesso che facessimo molto fuoco mentre viaggiavamo nell'eserto poiché disse farò diventare gradevole il vostro cibo perché non dobbiate cuocerlo io sarò pure la vostra luce nel deserto e io preparerò il cammino davanti a voi se accadrà che obbederete ai miei comandamenti pertanto in quanto che obbederete ai miei comandamenti sarete condotti verso la terra promessa e saprete che è da me che siete condotti sì e il Signore disse pure dopo che sarete arrivati alla terra promessa voi saprete che io il Signore sono Dio e che io il Signore vi libererò dalla distruzione sì che vi portai fuori dalla terra di Gerusalemme pertanto io Nefi mi sforzavo di obbedire ai comandamenti del Signore e esortavo i miei fratelli dalla fedeltà e alla dirigenza e avvenne che fabbricai degli attrezzi con il metallo che avevo fatto fondere dalla roccia e quando i miei fratelli videro che mi apprestavo a costruire una nave cominciarono a mormorare contro di me dicendo nostro fratello è uno sciocco poiché crede di poter costruire una nave sì e crede anche di poter attraversare questa grande acqua e così i miei fratelli mormoravano contro di me e non volevano lavorare poiché non credevano che io potessi costruire una nave né volevano credere che fosse istruito dal Signore ed ora benne che io Nefi fui grandemente addolorato a causa della durezza di cuore e ora quando videro che cominciavo ad essere addolorato ne godettero in cuor loro al punto di prendersi gioco di me dicendo sapevamo che non avresti potuto costruire una nave perché sapevamo che avevi poco giudizio pertanto non potrai compiere un'opera così grande e tu sei come nostro padre sviato dalle assurde immaginazioni del loro cuore del suo cuore sì egli si è condotto fuori dalla terra di Gerusalemme e abbiamo pagato nell'eserto per tutti questi anni e le nostre donne hanno tribolato appesantite dalle gravidanze e hanno parturito nell'eserto sofferto ogni cosa salvo la morte e sarebbe stato meglio che fossimo che fossero morte prima di uscire da Gerusalemme piuttosto che aver sofferto queste afflizioni ecco noi abbiamo sofferto tutti questi anni nell'eserto mentre avremmo potuto godere goderci le nostre ricchezze e la terra della nostra reità sì avremmo potuto essere felici e sappiamo che il popolo che era nella terra di Gerusalemme era un popolo giusto poiché obbediva ai statuti e ai giudizi del Signore e ai suoi comandamenti secondo la legge di Mosè pertanto sappiamo che è un popolo giusto il nostro padre lo ha giudicato e ci ha condotti via perché abbiamo voluto dare ascolto alle sue parole sia il nostro fratello e come lui e con espressioni di questo tipo i miei fratelli mormoravano e mormoravano contro di noi e avvenne che io ne ti parlai loro dicendo credete voi che i nostri padri che erano i figlioli di Israele sarebbero stati condotti via fuori dalle mani degli egiziani se non avessero dato l'ascolto alle parole del Signore si pensate che sarebbero stati condotti fuori dalla schiavitù se il Signore non avesse comandato a Mosè di condurli fuori di schiavitù ora voi sapete che i figli di Israele erano in schiavitù e sapete che erano oppressi dai compiti che erano penosi da sopportare sapete pertanto che necessariamente era una buona cosa per loro l'essere portati fuori di schiavitù ora sapete che a Mosè fu comandato dal Signore di scompiere questa grande opera e sapete che mediante la sua parola le acque e il mar rosso furono divise di qua e di là ed essi vi passarono in mezzo all'asciutto ma sapete che gli egiziani che erano gli eserciti del farone annegarono nel mar rosso e sapete che anche essi furono nutriti di manna nel deserto e sapete anche che Mosè mediante la sua parola secondo il potere di Dio che era in lui percorse la roccia e ne scaturi l'acqua affinché i figli di Israele potessero dissentarsi e nonostante fossero guidati e il Signore loro Dio loro Redentore andasse innanzi a loro e li guidasse di giorno e desse loro luce di notte e facesse per loro tutte le cose che era opportuno che ricevessero essi indurirono il loro cuore e accecarono la loro mente e insultarono Mosè e il Dio vero e vivente e avvenne che secondo la sua parola egli li istrusse e secondo la sua parola egli li condusse e secondo la sua parola egli fece ogni cosa per loro e non fu fatto alcunchese non mediante la sua parola e dopo che essi ebbero attraversato il fiume Giordano li rese potenti fino a scacciare i figlioli di quel paese si fino a disperderli per distruggerli e ora pensate voi che i figlioli di questo paese che erano nella terra promessa e che furono scacciati dai nostri padri pensate voi che fossero giusti ecco io vi dico no pensate voi che i nostri padri sarebbero stati preferiti a loro se essi fossero stati giusti io vi rispondo no ecco il Signore stima ogni carne in un uomo in un unico modo colui che è giusto e favorito da Dio ma ecco questo popolo aveva rigettato ogni parola di Dio ed erano maturi nell'iquità e la pienezza dell'ira di Dio era su di loro e il Signore maledisse il paese e a loro danno e lo benedisse per i nostri padri si lo maledisse al loro danno per la loro distruzione e lo benedisse per i nostri padri perché ottenessero potere su di essi ecco il Signore ha creato la terra affinché sia abitata e ha creato i suoi figli affinché la possegano ed egli eleva una nazione giusta e distrugge la nazione dei malvagi e conduce i vie giusti in terre preziose e i malvagi li distrugge e maledice contro di loro il paese per il loro bene egli governa alto nei cieli poiché questo è il trono e questa terra è lo sgabello dei suoi piedi ed egli ama coloro che vogliono averlo per loro Dio ecco egli ama i loro padri e fece alleanza con loro sì proprio con Abramo Isacco e Giacobbe e ricordò le alleanze che aveva fatto pertanto li portò fuori dal paese d'Egitto e li confinò nel deserto con la sua berga poiché indurirono il loro cuore proprio come voi e il Signore li confinò a causa della loro iniquità mandò fra loro dei fiammeggianti serpenti volanti e dopo che furono morsicati e gli preparò un modo affinché potessero essere guariti e la fatica che avevano da fare era di guardare e a causa della semplicità di tale modo ossia per la sua facilità venne furono molti che perirono ed essi indurirono il loro cuore di tempo in tempo e insultarono Mosè e anche Dio non di meno voi sapete che furono condotti innanzi dal suo potere ineguagliabile nella terra di promessa ed ora dopo tutte queste cose è venuto il tempo in cui sono divenuti malvaggi quasi al colmo e io non so altro se non che in questo tempo stanno per essere distrutti poiché so che deve certamente venire il giorno in cui dovranno essere distrutti salvo pochi soltanto che saranno condotti via in schiavitù pertanto il Signore comandò a mio padre di partire inoltrandosi nel deserto e i giudei cercarono anche di togliere la vita sì e voi pure avete cercato di togliere la vita pertanto siete omicidi nel vostro cuore e siete come loro siete solleciti a commettere iniquità ma lenti a ricordare il Signore vostro Dio avete visto un angelo ed egli vi ha parlato sì avete udito la sua voce di tempo in tempo ed egli vi ha parlato con voce calma e sommessa ma voi eravate insensibili cosicché non potevate sentire le sue parole pertanto vi ha parlato come con voce di tuono che ha fatto tremare la terra come se stesse per fendersi e sapete pure che mediante il potere della sua parola onnipotente egli parlò egli può far sì che la terra cessi di esistere e voi sapete che mediante la sua parola può far sì che i luoghi accidentati diventino piani e i luoghi piani siano riotti o come è possibile allora che siate così duri di cuore ecco la mia anima è straziata d'angoscia a causa vostra e il mio cuore è in pena ho timore che siate rigettati per sempre ecco sono pieno dello spirito di dio a tal punto che il mio cuore non ha più forza e ora venne che quando ebi pronunciato queste parole essi si adirano contro di me e volevano gettarmi nella profondità del mare e mentre avanzavano per mettermi le mani addosso parlai loro dicendo nel nome di dio onnipotente vi comando di non toccarmi perché sono riempito del potere di dio al punto che la mia carne è consumata e chiunque metterà le mani su di me avvizzirà proprio come una canna secca e sarò come nulla dinanzi al potere e sarà come nulla dinanzi al potere di dio perché dio lo colpirà e avvenne che io nefi dissi loro che non dovevano più mormorare contro il loro padre né dovevano più rifiutarsi di lavorare per me poiché dio mi aveva comandato di costruire una nave e dissi loro se dio mi avesse comandato di compiere ogni cosa potrei farla se mi comandasse di dire a quest'acqua si terra sarebbe terra e se lo dicessi sarebbe fatto ed ora se il signore ha un così grande potere e ha operato così tanti miracoli tra i figli e gli uomini come mai non potrebbe istruirmi cosicché io possa costruire una nave e avvenne che io nefi dissi molte cose ai miei fratelli tanto che furono confusi e non poterono contendere con me né osarono mettermi addosso le mani né toccarmi con un dito sì per lo spazio di molti giorni ora essi non osavano farlo per timore di avvizzire dinanzi a me così potente era lo spirito di dio e così esso aveva operato su di loro e avvenne che il signore mi disse stendi nuovo la tua mano verso i tuoi fratelli ed essi non avvizziranno dinanzi a te ma io li scuoterò dice il signore e farò questo affinché possono sapere che io sono il signore loro dio e avvenne che io stessi la mano verso i miei fratelli ed essi non avvizzirono dinanzi a me ma il signore li scosse proprio secondo la parola che aveva detto e allora essi dissero sappiamo con sicurezza che il signore è con te perché sappiamo che è il potere del signore che ci ha scossi ed essi caddero a terra dinanzi a me e stavano per adorarmi ma io non lo permessi loro dicendo sono vostro fratello sì anzi vostro fratello minore adorate pertanto il signore vostro dio e onorate vostro padre e vostra madre affinché i vostri giorni possano essere lunghi sulla terra che il signore vostro dio vi darà grazie a tutti